A noi piace stare in casa e vogliamo essere sempre belle proprio come Barbie Elegante Barbie ha un nuovo abito da trasformar è un bel arredamento con cui poter giocare è cola in lungo così, è pronta per mangiar vestiti e mobili sai, son belli e noi siamo con Barbie noi siamo con Barbie con Barbie Elegante e i suoi mobili porti la moda in tutta la casa